L'evoluzione del sindacato, ieri, oggi, domani. La Cisla ripercorre gli ultimi anni delle vicende sindacali, sociali e politiche della provincia e del paese, attraverso i ricordi di chi ha contribuito a caratterizzarli, e prova a disegnare i percorsi per il futuro prossimo e venturo, con l'apporto di chi oggi lavora a immaginarlo. Se ne è parlato in un incontro all'Overe. Dando uno sguardo alla memoria, vogliamo fare uno scatto fotografico presente per poter poi costruire un nuovo sindacato che deve dare le risposte alla società del terzo millennio. La Cisla, che ha sempre anticipato le grandi riforme, è impegnata già da anni sul concetto di prossimità, cioè quello di stare vicino ai lavoratori. Il sindacato si interroga rispetto a quelle che sono le evoluzioni della nostra società. È indubbio che abbiamo vissuto una crisi importante, la prima crisi importante del dopoguerra che noi viviamo. Questo ha cambiato fortemente il sistema economico e cambia anche il sistema sociale. Tutti i sistemi sociali sono stati messi in discussione, anche a livello europeo. Ci sono state delle riforme che ci hanno fatto ripensare un po' a quello che è il nostro modello. Noi oggi tentiamo di ragionare rispetto a quella che è la nuova modalità, i nuovi strumenti per tutelare il nuovo lavoro. Stiamo ragionando anche sulla questione delle infrastrutture. Noi insistiamo anche a livello governativo e contestiamo anche questa finanziaria perché non contiene gli investimenti sullo sviluppo, sulle infrastrutture. Un paese che non investe sulle infrastrutture è destinato a rimanere indietro rispetto allo sviluppo degli altri paesi. Noi questo non ce lo possiamo permettere. L'unico modo per creare del lavoro di qualità è avere un paese all'avanguardia. Infrastrutture, formazione, scuola. Noi vogliamo agire soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro insistendo sulla formazione delle persone.